Ciao, allora, ho visto un video di una ragazza che mi è piaciuto tanto con le cose che ha in palestra, ma devo guardare il buco, che si chiama Pink Fashion 1985, mi piace tanto, l'ho vista oggi e mi piace tanto questa ragazza. A parte di questo, poi mi piace un'altra ragazza, ma è bella, ma anche questa ragazza è bellissima, un'altra ragazza bella, ma che ha un nome suesunable, vabbè, quello là, bella, 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 mi piace il suo taglio dei capelli, vabbè, a parte di questo, mi piace tante ragazze su YouTube, però oggi ho visto queste due ragazze, mi sono truccata con quei ombretti da Astra, mescolati con quelli da Essence, vabbè, volevo dire, come facevo io la spesa quando pesavo 160 kg. Devo andare a imparare a mettere, a fare il video e a mettere, tipo quando faccio con la malina qua, guardo la foto, guardo il video, devo fare le foto, devo fare un video con le foto, con il percorso di obesità. Ecco, la mando giù questa cosa fa. Allora, volevo dire che io a 160 kg facevo spesa in questa maniera. Andavo a fare la spesa e prendevo tutto quello che era in offerta e che era pochi centesimi, 50, 1 euro, quelle che aveva la scadenza a breve, tipo prendi oggi e scade domani o fra due giorni. Era una roba da pazzi, una roba... Io caricavo sto frigo, questo frigo piangeva, insomma, perché lo caricavo. Adesso mi piace vederlo più nudo, più porno. Se sta nudo, io non sto più appiccicata a questo frigo, perché lo riempivo e stavo sempre... guarda come parlo, lo riempivo e stavo sempre, sempre, sempre attaccata al frigo. Cioè, proprio... mangiavo anche cose congelate dal frigo, tipo la frutta congelata. Quindi adesso se è porno... porno, vabbè, non usiamo queste parole. Se è vuoto, io metto l'acqua, a volte, la verdura, i vasetti di sottoaceti, il latte. Io bevo tanto latte, perché bevo tanto il caffè. A me piace il caffè latte. Prendo il caffè, quello solubile, ho quell'orso con il caffè solubile dentro. Mi piace tanto, perché so pigra, insomma, ecco. Così con il latte lo metto al microonde un minuto e si scalda tutto. Perché ho anche la macchinetta, ma la macchinetta... metto Nicola da farla. Vabbè. Quindi sto bevendo il mio caffè, ma con l'acqua, che non mi incanta tanto, però lo devo bere, perché siccome oggi alle 10 come spuntino, la mattina ho preso... ho mangiato il caffè latte con quattro... con tre biscotti frollini da zona, da questa qua. Perché io seguo questa dieta, quindi questa dieta ti fa calcolare le proteine, i grassi e i carboidrati e quindi mi piace tanto. Ma mi piace anche perché seguendo questa dieta... cioè, nel senso, a me già la parola dieta mi scattava. Oddio, ancora dieta? Oddio, madonna che fastidio! Però, dopo, mettendomi questi due neuroni un po' al fresco, prenderli e metterli un po' al frigo, ma pensateci un po', eh. Non mi trovo più quella stanchezza. Io mi alzavo già da letto stanca. Le gocce per dormire li prendo, perché sennò non ci riesco a dormire. Però non ho più così tante giornate che mi alzo già stanca, già, oddio, madonna quanto fatica ho fatto anche a dormire. Cioè, proprio, mi so... madonna mia, è stanca. Quindi, questa dieta mi piace tanto. E volevo dire che non mi prendo più le cose, le cose in offerta, sì. In offerta, sì, tipo, ieri sono passata da Oshan, perché il frigo è vuoto, per prendere... mi piace tanto i gabberetti, però sono 3 euro, 4 euro, quindi ho detto, va bene, dai, perché ho visto questo, che era a 3,50 euro da Oshan, il reparto, quello di farmacia o cos'è, che ha... questo qua ha 3 blocchetti, che si spegne la luce. 3 blocchetti che io devo mangiare. 12 blocchetti, 12 blocchetti, 3 colazioni, spuntino pranzo, spuntino cena. Come si fa a calcolare i blocchetti? Per chi si intende sa già, per chi no, basta che cerca su YouTube. Questi sono appunti... è scritto da... una che va con Parkinson. Però è perché... cioè, scrivi là sui piedi, sulla sedia, non è che è tanto... così. E... allora... cosa dice il dottore Edoardo? Te misuri la circonferenza fianchi, circonferenza taglia, statura e il peso, che io avevo 99. Adesso ho 96, a volte 5, a volte 2, dipende. Che tu ti calcoli questo, ma trovate dei siti che te li calcola e te li fa... Io non ho chiesto al dottore che mi faccia lui le cose, perché non ho... Massa grassa, massa magra... hai calcolato massa grassa, dopo sostrai il peso e si vede massa magra. Massa magra per 1,9... che non ho capito cos'è sia 1,9. E si divide per 7 e hai... ha finalmente 12 blocchetti. E ho detto, oddio dottore, fa una cortesia perché non ho capito niente. Fa... fa... ma faccia lei. E... è tanto disponibile, è tanto paziente, quindi mi ha fatto lui. Quindi, la mia colazione è 12... la mia... il mio... il mio mangiare deve essere 12 blocchetti al giorno. E quindi questo sarebbe due spuntini, perché qua scrive 3 blocchetti. Ma qua dietro, perché ho letto, una bustina 150 ml latte parzialmente scremato, 3 blocchetti. E sotto... ma scrive 2 blocchetti circa. Non so se voi vedete... vedi che qua... qua scrive 2 blocchetti. Ma qua da qua sopra scrive 3. Vabbè, se uno va a guardare questa, non ho capito come mai. E' un po' così. Quindi io mi faccio... due... due... spuntini. Oggi, mercoledì, andrò in palestra stasera perché alle 8 e un... alle 8 e 15 ho l'appuntamento. Madonna, quanto mi... raga, quanto mi piace questo ombretto. Da pazzi, mo devo andare a sfondare sulla astra. Vi ho fatto vedere, ma vi faccio lo stesso ancora. Vedi anche, vi sono rotto i maroni. Me li amo. Questo è tutto il mio cestino di roba. C'ho un altro... c'ho questo qua che porto sempre a Bassano con quell'altro mascara, con quell'altro vuoto e quell'altro nero. Con questo... ho visto che è uscito un altro che... questo per la palestra è una figata. Tiene, madonna, mi piace. Ma devo prendere con il pennellino più sottile, perché questo grosso... perché mi entra in occhio, ma non sono esperta, quindi mi va dentro in occhio, mi fa male. Aspetta, questi pennellini qua. Io li amo. Questi qua, mescolati con questi qua. La roba... è vero che io ho mescolato tutti questi qua. con un fiantin di questo qua, che questo qua mi ha fatto regalo la mia pugnata, la sorella di Nicola. Quello da Mac. Una figata. Non so se per questa... perché ha questa base di Mac, tieni così. Perché quando ho usato prima quello da Astra, primo giorno, dopo la piscina mi è venuto un po' di qua, insomma, forse che l'acqua, insomma, perché io dalla palestra vado giù in piscina, se non sono bambini là dentro, perché io se mi metto, alzo la gambetta, rotto la gambetta, faccio un tipo di tsunami, quindi per non annegare questi bambini, se non ci sono, faccio gli esercizi. Se ci sono, vado direttamente nell'idromassaggio. Andavo anche in sauna, però siccome ha tolto... Per andare in sauna, avevano un tipo di coso, non di plastica, non so di cos'era, che tu ti mettevi questo, là ti sedevi, ora devi andare con un asciugamano, l'asciugamano si bane, mi dispiace che per me, e devo chiedere, come mai ha fatto togliere questa cosa qua, perché io mi trovavo bene, adesso pago un servizio, ma non lo posso usare perché hanno tolto questa cosa facile. Devo chiedere se posso andare a prendere quel coso da Declaton, dopo disegnare i gatti, ma faccio una freccia, è mio, non toccatelo, perché con l'asciugamano mi dà fastidio, perché ho visto che scriveva che per le malattie, beh, le malattie te le puoi prendere anche quando ti siedi in idromassaggio, e se uno ti è stato dietro, che hai chemoroidi, c'è una malattia, dappertutto è malattia, non è che è solo là. Io in palestra con Andrea, che è un ragazzo meraviglioso, se dico, devo stare attenta alle parole, perché ho visto che se è una persona, dico che mi piace, che è meravigliosa, questa mamma è salta addosso, il ragazzo non ha detto, però gli altri, insomma, gli altri, altre persone. Devo fare il riscaldamento, questo qua, ma io lo faccio solo con Andrea due volte a settimana, una volta a settimana, perché non ci riesco, ma queste qua, quando mi metto, mi devo mettere sdragliata, per me, è una cosa da piangere, io devo fare questi, mi piace, primo, secondo, terzo e quarto, cinquinto, è una difficoltà, madonna, perché ho il peso, ho la pelle che pende, è una difficoltà anche quella, però dopo mi fa male i carpali, quindi non ci riesco. Questi sdragliata, questi di giù, sì, a parte di questo, dove scrive la difficoltà, è una roba pazzesca, però, perché, quando Alessandro, il capo, il capo di Personal Trainer, tutti i ragazzi, una persona meravigliosa, anche, non è che ci stiamo là a raccontare chissà cosa, però, una persona, che ti piace, lo vedi da subito, una persona che a te sta sulle bale, lo vedi da subito, quindi, ognuno sa che quando gli piace una persona, dice questa persona, mi piace, quindi mi piace questa persona, e, quando lui dice, a me, quando mi dice, anche lui, un'altra persona, che ti desdragliata a fare questi esercizi, mi parte il nervoso, perché non li posso fare, mi mette in difficoltà, e mi imbarazzo verso le altre persone, quindi, in quel momento, vorrei, dare, un paio di calci, nel sedere, a tutti quelli, a tutti, a tutti loro che mi mettono a fare questo, però, so che, è per mio bene, perché, lui, sta bene in forma, quindi, cioè, anche dopo penso, madonna, perché io dico, eh, non posso, eh, mi devi da fare un'altra cosa, perché io lo faccio con cattiveria, e se faccio con cattiveria, non va bene, tutte queste storie, eh, però, eh, alla fine, questo qua, me fa, me fa, fa questa roba qua, perché è sempre per me, bene per me, perché io vedo che, ho ancora la pancia, devo andare a gennaio all'appuntamento con dottor Bernante, quindi ho sempre la pancia, siccome ho visto tanti interventi che si hanno tagliato la pancia sotto, ma gli è rimasta questa salsiccia al stomaco, me fa schifo, non mi piace, a me prende l'ansia, quindi dico, eh, dannate sotto, fai, eh, tante storie che ti mettono, e i personal trainer, a fare questi, dopo a casa, quando vedi che si avvicina al giorno, perché fra poco è gennaio, eh, manca poco, no? Eh, il tempo passa totalmente veloce, e dopo, quando arrivi, e dopo cosa dici? Oddio, perché non ho fatto quello che mi ha detto il personal 3, perché? E mi incazzavo come una ena, che dico, eh, non posso, eh, non mi... lo devo fare, ragazzi, perché il personal trainer, al film, dice, vabbè, non lo puoi fare, eh, tipo, cazzo, tu hai fai come vuoi, ma dopo, pensandoci, lui ha ragione, perché lo devo fare, se voglio, perché non è che mi dice, magna la carne del maiale fritta, o le patatine fritte qua, no, mi dice, qua devi stare bene, fai questa cosa qua, perché ci starà, ti farà male adesso, ma dopo ci stai bene, però, siccome io dentro qua, ci sono ancora obesa, ho questi due neuroni obeso, e quello che sta dimagrendo, quindi, quando sente, da fare la fatica, quello obeso va, va in tilt, va, cioè, si arrabbia, quindi, però, eh, mi aiuta tanto questi ragazzi, a me, cioè, aiuta tutti, non a me, eh, e so contenta, quindici minuti, sto video non so di che cosa, ho detto di questo, sì, allora, ho detto che ho preso questo, che ieri sono andata a prendere, eh, ste banane, che erano a 79 centesimi, quindi per Nicola, che va a lavoro, come spuntino, lì va bene, eh, sul reparto, di pesci, a me, io so pazza per i gamberetti, ragazzi, fatemi, e invitatemi a casa, con un'insalata, e due, tre gamberetti, là, madonna, con un po' di yogurt, io divento, mi piace tanto, siccome erano sui 4 euro, 5 euro, 3-4 euro, insomma, più o meno, eh, ho visto, sul reparto, delle offerte, vado sempre sulle offerte, cioè, mi prendo una cosa, che costa de meno, per prendere una cosa, che mi può essere, eh, più utile, perché il mangiare, non lo vedo più, come lo vedevo prima, che deve essere per forza, al frigo pieno, che io, avendo il frigo pieno, quando avevo il frigo pieno, così, stavo vicino al frigo, attaccata, proprio, leccavo quel frigo, io, mi mangiavo, anche, la roba congelata, e, ci penso, mi avevo il brivido, eh, adesso, è che, eh, non lo riempio più, è sempre vuoto, eh, non ho, cioè, ma mani a cosa, cioè, vado a mangiare cosa, che non ho, mi riempio di limoni, eh, e quindi, mi mangio il limone, mi faccio il tè, ho tanto il tè, il limone, non ho niente da sgranare, niente, non mi prendo niente, ho questi biscotti, che ho fatto, eh, la scorta di biscotti, a zona, e quindi, quattro biscotti, ti riempia, perché io, ho il stomaco che è tagliato, non so se riempia, anche, una persona che non ha stomaco, che è normale, non so, non ho idea, però a me, mi riempia, e quindi ho preso queste due teste di salmone, che non è chissà cosa, era un euro cinquanta, quindi, un euro cinquanta, te mani solo questa roba qua, un po' da qua, dopo lo butti, perché gli occhi, le orecchie, non è che si mangiano, quella pelle grassa, non si mangia, quindi, ho mangiato quella roba che si può mangiare, eh, con l'aceto, eh, con il soia, eh, con un po' di fette biscottate, e il mio pranzo è quello, poi il caffè, e stasera, siccome sono a Tirkia, cioè, ho risparmiato sul pranzo e cena, per prendere, per avere il spuntino, perché è tre euro cinquanta, quindi, ho preso la cena e il pranzo, da un euro cinquanta, per avere il spuntino, tre euro cinquanta, due spuntini, eh, quindi, dove ha bulito il pesce, ho messo una cipolla, un po' di sale, e, ho preso la schiuma che fa, là sopra, eh, ho bulito il pesce, oggi ho mangiato, a mezzogiorno, Nicola mangerà quell'altra parte, eh, stasera, e io stasera, sto brodetto, sta acqua, dove ha bulito il pesce, già ho acqua in bocca, mi lo scaldo, perché dentro ho messo anche, eh, un po' di soia, soia, ecco, soia, quelli da cinesi, aceto di soia, come si dice, eh, quindi, mi lo riscaldo, con due fette, tre fette biscottate, sto brodino, con questo gusto di pesce, e mi va bene così, e per domani, mi faccio, come spuntino, metà di questo, perché ho sentito, c'è una ragazza, so più ragazzi, però, quella che parlo, che è là vicino a me, eh, ha detto che questa, sa sia parecchio, quindi, eh, se sa sia parecchio, io sono per questo, perché io, se vado a un palestra, le due e mezza, devo, devo fare, il spuntino alle tre, quindi, eh, devo andare via alle tre, quindi mi prendo questo, alle due e mezza, così non sto là, con il, mania qua, eh, dopo arrivo a un palestra, e vado via, eh, sulle sei e mezza, quindi non mangio più niente, prendo questo, e, dopo quando arrivo a casa, mi mangio, quello che devo mangiare, so pazza per le insalate, le so pazza, mi piace, e, non voglio mangiare la roba pesante alla sera, perché uno, ti fa dormire male, dopo, ti metti addosso calorie, perché, se vai in palestra del giorno, dopo la sera, mani dei scopi, eh, vai per niente, cioè, capisci? Eh, se mi sentivo un anno fa a parlare così, mi prendevo a schiaffi da sola, lo so, però, eh, è che, quando una persona dimagrisce, eh, eh, io, quando, adesso, che mi sono presa stivali, ma, te stai a scherzare, io con stivali, mai avuti, perché ho avuto sempre il piede grosso, e mi sono messa sempre le scarpe da uomo, quindi, siccome io mi sono vestita sempre con le cose da uomo, perché erano più grandi, mi sono vista sempre un uomo con le tete, adesso, quando riesco a prendere le cose da dona, e una soddisfazione, e una soddisfazione, eh, per questo, eh, la mentalità è un po' cambiata, perché vedo che ci rientrano cose che non pensavo nemmeno, vorrei fare un video, eh, con le foto di prima e con le foto di adesso, va bene, se ci riesco, perché devo andare a far imparare da un'altra persona, perché non so farli, montarli, non ho idea, eh, 21,8 minuti, va bene ragazzi, come vi ho detto, vi ho detto come facevo io la spesa, a 160 kg, io amavo vedere il frigo pieno, eh, perché così avevo la possibilità, la possibilità di starli vicino, ed è maniatotto, eh, sai che, se prendi, prendevo la mozzarella o stracchino, eh, con la, con la scadenza, beh, a breve era, perché già mettevo un'offerta, era già la scadenza a breve, e, scoppia, cioè, si gonfiava il stracchino, e quindi, roba che buttavi, o lo magnavi così, ma no, perché dopo diventa un po' al gusto, eh, quindi, una roba, c'è una roba pazzesca, ma adesso, so pazza, eh, per le cose in offerta, e i detersivi, detersivi, e l'alcol, l'aceto, se lo trovo a 60 centesimi, oddio, cioè, non mi butto solo sul mangiare, ma su queste cose qua, pazienza, va bene ragazzi, vi mando un bacio, vi saluto, eh, devo rivedere sto video, perché non so di che cosa ho parlato, ciao!